eccoci qua sempre a cosplay fiera di roma abbiamo moonstone dei dark avengers ecco cosa ci racconti come sta andando la festa ma direi bene vedo c'è tanta gente c'è tanto fermento tanta voglia di fare foto i cosplayers sono più sono più vogliosi divertirsi che mai quindi benissimo ottimo tu sei perfetta sei tanti anni che tu ricopri questo ruolo no in realtà questa è la prima volta che faccio questo che interpreto questo personaggio però sono tanti anni che faccio la super eroina diciamo la super l'eroina e chi hai fatto raccontaci ho fatto finisce degli x-men emma frost sempre degli x-men la vedova nera dei vendicatori e adesso sono moonstone stai già pensando per il prossimo anno cosa farai no il prossimo anno ci penserò ancora non lo so ci penserai tu cosa fai generalmente oltre a fare l'eroina ma io gestisco una pagina che si occupa appunto dei cosplayers della marvel che si chiama marvel cosplay italia siamo praticamente un punto d'incontro per tutti i cosplayers italiani che appunto della marvel che si vogliono che si vogliono riunire e vogliono creare insieme qualcosa di grande e noi siamo siamo lì per questo ci staremo anche a lucca giriamo per varie fiere insomma che interessa siamo lì perfetto allora diciamo dove vi possono trovare i vostri contatti su internet allora abbiamo una pagina che si chiama appunto marvel cosplay italia abbiamo anche un indirizzo mail che è marvel cosplay italia che ho c'è la gmail.com e aspettiamo lì le vostre foto i vostri messaggi i vostri commenti qualsiasi cosa perfetto allora troverete anche questo video troverete anche le foto e vogliamo fare un saluto a tutti quanti perfetto ciao a tutti tutti gli spettatori del romix e soprattutto anche la vostra pagina e l'appello per farli venire da voi ragazzi marvel cosplay italia aspetta solo i supereroi perciò per il momento è tutto chissà tg salutatore del blog news 25 un saluto a tutti quanti grazie mille ciao ciao grazie 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 grazie